Nessuno mai risobbedisca agli ordini di un console, nemmeno un figlio, per quanto valoroso, benché assetato di ogni onore e gloria, come oggi il mio Tito, che di sua iniziativa ha provocato e ucciso fieramente il nemico, senza però che io l'abbia consentito. Ai figlio mio, che hai fatto figlio mio? Più importante dell'onore è l'amore per la patria, che è l'amore filiale, per cui non ti dispiacerà certo il castigo, crudele per un padre, ma per la gioventù futura salutare. Venga avanti il dittore e giustizzi il mio Tito, che non si dica in giro che all'amore patrio, l'amore privato di un figlio, abbia io preferito.